Ehi, caro Marcheggiani, a mangiare piadine, sono un fenomeno. Caro Di Biagio, eri più bravo a mangiarti i gol. Ciao ragazzi. Tenti a non stancarvi troppo. Ciao. È incredibile. Sembra che per loro il tempo si sia fermato al 99. Quando sono passati dalla Banca di Roma. Il conto del tuo futuro della Banca di Roma aiuta a restare giovani, perché c'è tutto per vivere senza preoccupazioni. Ho vinto! Sì, hai vinto. Giusto lì. Sì.